Io sono, io sono, io sono, io sono Io, io E poi un bacio, buongiorno Perché è viziato, buongiorno Non ho mai dormito Io sono, io Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì. Allora, dopo essermi ostionata tutto, tornati dalla gara, questo è il mio premio, no? Buona giornata, siamo tornate alle 8 di sera stamattina, tutta ostionata anche, ho fatto 10.000 passi tutte in salita, me lo sono meritato. Però bella dare.